Ho voluto non mai venire qui e dirvi queste cose, ma purtroppo ve le devo dire perché io non prendo in giro prima di tutto me stesso e io quando parlo e vi dico che ho dei sogni e vi dico che le cose le guardo con il cuore, non vengo qui a fare una retorica, vengo qui a esprimere quello che io provo perché alle spalle c'è una famiglia che merita, che dica queste cose per fargli sentire quant'è l'affetto e quanto bene gli voglia loro. Quindi per rispetto soprattutto per me stesso, la mia avventura è finita perché è un gruppo di bravissimi ragazzi, secondo me anche di buoni giocatori, però la famiglia non c'è, la famiglia non c'è, ognuno pensa se gioca titolare va bene, se non gioca titolare non va bene, ci sono molte superficialità, molte cose che non mi piacciono e di conseguenza non voglio mettere in difficoltà il Perugia perché io ho fatto tre partite quindi il tempo per recuperare ce n'è ancora, però non sono la persona che in questo momento è in grado di aiutare il Perugia. Volevo ringraziare appunto soprattutto i perugini, tutte le persone di Perugia che io ho incontrato qui quando andavo a fare l'allenamento, quindi la maggior parte anche tifosi ma anche persone che vengono meno allo stadio per la loro ospitalità e per il loro affetto che mi hanno dimostrato nonostante una situazione difficilissima, quindi dovrei ringraziare. Poi lo stesso discorso sia il Presidente che il Direttore merito nel mio rispetto perché loro hanno messo in me tutta la fiducia possibile per venire fuori da questa situazione e quindi non li voglio prendere in giro e come sapete mi levo senza cercare di far danni e mi dispiace per loro ma non sono la persona in grado di dargli una mano, se fossi in grado di fargli una mano non mollerei fino alla fine ma siccome il mio cervello, le mie emozioni non me le posso giocare per un risultato, io me le gioco a lungo termine, a lungo termine io come sono fatto io non vedo possibilità di vedere le cose col cuore, quindi quando le cose non si possono dire col cuore io non sono la persona. Vi ringrazio anche a tutti voi cronisti per la disponibilità e soprattutto per la semplicità in cui abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di tante cose, siete state delle persone molto gradevolissime, quindi vi ringrazierò sempre. Grazie e speriamo che il Perugia venga fuori da questa situazione.